Ciao, benvenuti, aspetta fammi fare la prova, oh dai ancora ricerco, benvenuti nella magica atmosfera del mio lab, benvenuti dopo una settimana di assenza ma ora vi dico perché. Oggi facciamo un breve, spero breve, Q&A, questions and answers, cioè botte e risposta, ho riunito qualche domanda che mi viene fatta molto spesso, quelle che mi vengono fatte più spesso direi e sono anche questioni abbastanza importanti, grandi, cosa riguarda tutto questo insieme di domande ma certamente il fare gioielli, bigiotteria e cose fatte a mano. Più o meno ho notato che le domande che tornano sono quelle, quindi secondo me adesso io mi concentrerò più su alcune che su altre che sono meno importanti. Comunque detto questo grazie per avermi aspettato perché se siete qui ancora e non vi siete scocciati vi ringrazio infinitamente, abbiamo saltato il video della scorsa settimana perché la mia dolce madre ha deciso di farci preoccupare un po' più del solito, quindi io mi sono dedicata molto volentieri a lei anche se con il cuore ero anche qui, ero anche qui su YouTube e ringrazio tutti anche quello che mi ha dato della Boomer, mentre perché io vado nelle discussioni che non mi riguardano a dire la mia quando ho a che fare con gli analfabeti funzionali. Comunque figlio mio di 35 anni, credo che tu abbia, non lo so, col profilo tutto nascosto di quelli che non hanno coraggio, però hanno una foto profilo, io spero che tu l'abbia rubata da internet e che tu l'abbia presa da qualcuno perché se quella è la tua faccia, la punizione ti è arrivata già prima dalla natura. Ok, detto questo amici, vabbè stupidaggini e cose anche importanti, io direi di passare alle domande, che ne dite? Quindi allora, il laminatoio, domanda numero uno e non so, forse anche la più importante perché qui arrivano sempre domande sul laminatoio, che voi avete visto, adesso vi metterò probabilmente qui una fotografia di quello che ho acquistato e che se volete potete vedere nel link che io ho messo nell'info box, scusate, perché anche oggi se ne parlava nel gruppo Facebook creare, creare Wild Metalwork e poi ha un altro nome ma lo trovate, un gruppone, un gruppone diretto dalla bravissima Irene che saluto qui e senza pietà, ciao Irene, grazie. Allora, anche qui si chiamava, si parlava del laminatoio, quale scegliere? La domanda che ha posto una ragazza, poi sono stata tirata dentro anch'io, è scegliere un laminatoio entry level, quello tipo quello che ho io oppure professionale? E questa è veramente una domanda da un milione di euro, ragazzi, perché dipende da quello che si vuole fare, dipende da che intenzioni si ha e anche dalla propria esperienza. Certo, ovvio, se hai un'idea vaga di quello che vuoi fare è più facile, mentre se non hai un'idea e ti approcci un po' come ho fatto io, vabbè, io avevo bisogno di riciclare il mio argento, quindi per me era importante non averlo lì e non utilizzarlo, perché comunque l'argento costa tanti soldi, tanti danè. Quindi, anche la ragazza che ha posto la domanda anche oggi nel gruppo, direi che lei voleva sapere le differenze tra quello professionale e quello non professionale, diciamo ubistico, se vogliamo un po' da ubisti. Non ti so dire la differenza, nel senso che quello professionale non l'ho mai avuto, poi ce ne sono tanti di laminatoi. Io poi amo più, al momento sono più per l'artigianalità, perché sai, ci sono anche quelli elettrici che fanno tutto loro, sono dei macchinoni infernali, costano tanto, quindi cosa prendere in considerazione? Io direi il costo, perché anche questo costicchia, costicchia, però non arriviamo a 1000 euro, cioè che è una spesa veramente impegnativa. Come fai a sapere quanto lo userai, quante volte, cosa ci farai? Perché poi con il laminatoio puoi fare tante cose. Io al momento ci faccio le lastrine, che è la cosa che sinceramente mi serve di più ora. Non sono ancora passata ai fili, quindi ti potrò dire di più quando passerò ai fili. Ho le trafile, le classiche piccole trafile, e so già che sarò limitata nel poter fare delle grandi cose. Però, mano a mano che lo usi, il fatto è questo, che mano a mano che si usano questi oggetti, ne capisci anche le possibilità, quelle ignote, quelle di cui non ti parla nessuno. Cioè, puoi utilizzarlo veramente alla tua maniera. E' difficile, è difficile. Se puoi permetterti un laminatoio bello, meglio. Però, e poi? Eh, io non lo so. Veramente difficile. Io partirei dall'inizio, come ho fatto. Cioè, da un laminatoio così, che poi puoi rivendere. Lo tieni bene, lo tieni curato. Cerchi di non far arrugginire, soprattutto i rulli, che sono la parte fondamentale. E poi, direi che lo puoi anche rivendere, eh, lo rivendi, secondo me c'è mercato. Io credo che ci sia. Ecco, non vorrei essermi dilungata troppo su questo argomento. Cercherò di andare un po' più veloce, perché altrimenti è un guaio. Allora, un'altra cosa molto importante che mi viene chiesta spesso, è riguarda la microtorcia, la torcia che uso. Allora, intanto vi vorrei dire che nelle intenzioni di questa persona c'è quella di fare un video sulla torcia ed un video sul nostro laminatoio entry level. Quindi abbiate pazienza, non sono ancora stati girati, quindi non vi posso dire quando li manderò su YouTube, però il più presto possibile. Allora, questa è una microtorcia Easy Torch IZ EZ Easy Torch di Orca. La marca è Orca. C'è un problema, ed è quello che mi ha frenato finora da mostrarvi come realmente funzioni questa microtorcia. Devo farvi capire una piccola cosa, cioè che va trovato un connettore, un collegamento tra la torcia e la bombola di butano, perché la torcia è pensata alle sue viti, diciamo, in inch, cioè non in millimetri, col sistema metrico decimale, ma praticamente con i piedi di pollici. Ecco, in pollici. E questo è un problema. Bisogna trovare un commutatore, un qualcosa che... Quindi vi devo spiegare un attimo un particolare che richiede del tempo. Perché io ho fatto fare una modifica. Non vi posso fare vedere la modifica, perché non è corretto, non va fatto. Vi devo far vedere esattamente il commutatore com'è. E quindi prima lo procuro e poi vi mostro. La modifica che ho fatto l'ho potuta fare perché ho in famiglia una persona che fa questo lavoro. Ma non tutti in famiglia hanno qualcuno che fa questi pezzi, quindi no, non posso. Allora, avete capito la situazione. Quindi ve ne parlerò. È molto utile. Va a Butano, poi sfrutta l'aria che è nella situazione, nella stanza. Basta tenere aperto, stare un po' attenti. E devo dire che è molto comodo. Ve ne parlerò. Promesso giurì in giuretta. Poi molti mi chiedono... Un'altra cosa che è curioso che mi venga chiesto, perché è facilissimo trovare programmi di editing. Quindi anche di recente, Ilari, ma anche altre persone, mi chiedono anche su Facebook, sì, di recente, che programma di editing uso per le fotografie? Allora, io uso PicMonkey, come ho detto molto spesso. Non è un programma professionale e non è Photoshop, a cui prima o poi dovrò passare sicuramente. Però fa il suo sporco lavoro. Ha un piano tariffario anche gratuito per chi lo volesse provare. Quindi io vi direi di provarlo se volete. Se no c'è Canva, ad esempio. Ma credo che ce ne siano veramente molti. C'è Canva. Canva che credo sia più o meno come PicMonkey. Da quello che ho potuto capire, siamo lì. Cioè hanno la stessa funzione, si comportano più o meno la stessa maniera. Però è da provare. Io Canva non l'ho mai provato. E anche qui c'è un piano tariffario che ti permette di cominciare senza pagare. Quindi c'è una formula free, gratis, come in PicMonkey. Poi amici, ripeto, l'ho già detto, scusate se sono ripetitiva, chi sa usare Photoshop è a cavallo. Però questi programmi sono validi, sono validi. Quindi provateli, provateli. Allora, altra domanda. Altra domanda. Questa è una cosa interessante, perché me la sono posta anch'io. È su un vecchio video. I miei vecchi video sono ancora molto visti, devo dire, e quindi vuol dire che bisogna che rinnovi un po' gli argomenti, ne riparli. Però alla luce di qualche anno di differenza. come fare una collana rigida senza avere un supporto rigido, una forma rigida? È molto difficile, è un po' l'art di arrangiarsi. Quindi non è semplice rispondere a questa domanda che mi ha chiesto, chi mi ha chiesto? Rosi. Rosi, guarda, non è semplice. Bisogna un po' arrangiarsi. Usa una pentola, come tu sai, che non è il massimo, perché ovviamente non è stabile, perché ci sono le vibrazioni. Non puoi rovinare, oppure la puoi rovinare, ma poi la collana non ti viene bene. Devi usare un martello che non sia crudele, quindi un po' morbido. però se il materiale è duro, se usi il ferro, se usi anche l'argento però, se usi l'alluminio, già, non hai problemi. Che fare? Direi che se tu hai intenzione veramente di provare a fare più collane con un materiale rigido come il metallo, ti ci vuole una forma. Io ho visto che costano solo i 50 euro. Anch'io potrei fare questo acquisto prossimamente. Vediamo. O se no, un'altra cosa, arrangiarsi perché fare gioielli, fare, è anche un po' l'arte di arrangiarsi, di inventarsi le cose. Mi viene in mente anche una sagoma in legno. Un legno, però deve essere un'essenza dura o comunque ben stagionata, che non si scheggi facilmente. Con un'essenza dura, potresti informarti con un falegname o con chi lavora in legno e se ne intende, perché secondo me potrebbe essere un'alternativa. Non l'ho mai provata, te la lancio lì così, magari non funziona. Però secondo me è una sagoma, in legno, ti ripeto, un'essenza dura o comunque stagionata non soggetta ai tarli. Ci sono delle essenze meno soggette ai tarli e quindi che non troverai la sorpresa magari bucando. bisogna informarsi. Prova, prova. Può essere che tu risparmi e se no, niente, la forma in metallo. Va bene, vediamo cos'altro potrei dire. Allora, usare o non usare i fili artistici? Eh, ogni tanto la domanda che viene più spesso, anche sempre, spesso la ritrovo nei vecchi video, che fili usare? E questo, anche questo, veramente un bel dilemma. I fili artistici? I fili artistici sono quelli rivestiti e se li devi martellare l'anima interna si vede, se li devi spellare, se li devi limare, quello che c'è dentro si vede. Capito? Quindi, per alcuni lavori, ma anche per questo, per esempio, per quello che sto facendo ultimamente, che prevede semplicemente un intreccio, può andare bene. Questo è Silverfield, quindi non ci sono problemi. Il filo artistico potrebbe andare bene, forse si spell di meno qui, per esempio, però dipende da quello che ne devi fare. Per un semplice intreccio va benissimo. Guardate, i fili famosi, Gutterman, e l'altro, come si chiamava il Gutterman, ce n'era un altro, ma non perderò tempo nel cercare di ricordarmi, perché se no il video qui è chilometrico, vanno benissimo, sono di ottima qualità, direi che vanno solo perfetti, costano poco, permettono di fare pratica, permettono di imparare ad intrecciare, se questo è lo scopo, se questo comunque è quello che volete fare all'inizio, però, se si deve vedere, se si vede l'interno del filo, si può vedere, si può notare un pochino, potete camuffarlo, ci sono delle biro che io ho trovato anche, in cartoleria, che disegnano tipo, disegnano lasciando il colore argento, avete presente, sono le birovernice, sono, di fatto sono vernici, in effetti, all'interno di pennarelli, e guardate, potete eventualmente camuffare un pochino l'estremità così, cioè, si può fare, si può fare tutto ragazzi, cioè, basta avere l'immaginazione, però purtroppo, il filo artistico, è anche molto fragile, quindi, non so se, non potete usarlo per tutto, sappiate, che non potete usarlo per tutto, nel wire, ahimè, potete ricorrere al silver field, o al gold field, che hanno un rivestimento, in argento, e in oro, molto spesso, cioè, qui parliamo di un rivestimento, che non viene via, mentre indossate, per esempio, indossando una collana, dura, dura sempre, per sempre, ok, questo è un altro discorso, un'altra domanda, che mi viene fatta, spesso, è quella, che riguarda, dove, il dove, acquistare i materiali, guardate, questa è una domanda, forse, più difficile per noi, perché, io come voi, forse, ho acquistato, quasi sempre dall'estero, ma, non perché io sia esterofila, ma nella maniera più assoluta, anzi, io vorrei comprare dall'Italia, e spesso lo faccio, ci sono dei buoni rivenditori, abbiamo una tradizione ora, fa ragazzi, che c'è, penso che, insomma, non ha nulla da invidiare, anzi, forse sarà il contrario, vero, con altre, nazioni, quindi, perché no, dovremmo avere anche dei siti internet, fatti bene, faccio un piccolo rimprovero, ai nostri rivenditori, italiani, a volte, i siti internet, a volte, per favore, nessuno si offenda, non sono proprio accessibili, in modo facile, non sono fruibili, in maniera, bella, interessante, è un po' difficile, accedere ad alcune cose, quindi, io suggerirei, di spiegare un pochino meglio, a cosa serva, quel dato prodotto, così scopriamo, che era proprio quello, che cercavamo noi, magari in inglese, su Google, queste cose qua, e invece no, ce l'hanno i nostri siti italiani, e poi speriamo anche, ci vengono in conto con i prezzi, però, vabbè, mi rendo conto, che questo è un discorso, molto delicato, mi rendo conto, per l'amor del cielo, comprare all'estero, sì, si può continuare a fare, ci piace Cookson Gold, da diversi anni, c'è Palmer's Metal, sì, però adesso i prezzi, sono diventati proibitivi, e purtroppo, amici, adesso ora, c'è il Dazio, che ci frega un pochino, è il motivo per cui, ho acquistato, ho acquistato il mio, laminatoio, per tempo, prima che, subentrassero i Dazi, l'ho preso dall'Inghilterra, però, vi lascio il link, se volete, nell'info box, dello stesso laminatoio, acquistato in Italia, poi, la differenza di prezzo, sinceramente, forse costava qualcosa di più, questo italiano, ma, una volta aggiunti i Dazi, secondo me, veniva di più là, viene di più l'altro, secondo me, poi fate i vostri conti, per l'amor del cielo, quindi, non ho un elenco particolare, di negozi, in cui acquistare, mi piace tanto Pelusi, salve signor Pelusi, mi piace molto Hobby Perline, e poi i soliti, e li sapete, quelli che girano, più o meno, sono dei grandi rivenditori, per me c'è spazio ancora, per qualcun altro, c'è spazio, perché noi creativi, siamo tanti, Hobbyland, io fui una, credo, delle prime a parlarne, sì, mi voglio vantare di questa cosa, via, mi vanto, credo di essere stata una delle prime, a parlare di Hobbyland, su internet, lo dico, e qui me la gioco, e me la dico, si prezzi, beh, dobbiamo un po' accontentarci, per i motivi detti, poco innanzi, fortunatamente, io adesso non ho tante cose da acquistare, però ragazzi, acquistiamo dal mercato italiano, e aiutiamolo, facciamo anche noi la nostra parte, detto questo, vi saluto, perché questa è la quarta batteria, che sto utilizzando, mannaggia, questa macchina, che non è ricaricabile, poi, da alimentazione, esterna, e allora, io vi saluto, ditemi, se avete altre cose, che vorreste sapere, non rispondetemi no, perché rimango malissimo, se vi è piaciuto il video, io aspetto, naturalmente, vi aspetto qui, la prossima settimana, madre, permettendo, vita permettendo, però io amo questo ambiente, non voglio abbandonarlo, vai più, non lo voglio abbandonare, mi piace YouTube, vi voglio bene, mi raccomando, vi aspetto qui, grazie.